Ipertrofia dei turbinati inferiori. Sono delle formazioni oblunghe con un rivestimento mucoso, un plesso vascolare di tipo cavernoso. Questo plesso vascolare fa sì che da sdraiati i pazienti che hanno dei turbinati ipertrofici, vale a dire grandi, diventano ancora più voluminosi perché si riempiono di sangue. Allora, quando questa ipertrofia, quindi questo aumento di volume, è stabile, la vita del paziente diventa veramente infernale. Si può risolvere l'anestesia locale ed è un intervento strepitoso perché si può operare dal ragazzino di 15 anni, con la firma ovviamente dei genitori, al paziente 80 anni in relativa buona salute, evitando totalmente una narcosi. Si possono operare in anestesia locale senza tamponi in 20 minuti, il paziente esce dallo studio e può andare a casa sua, andare al lavoro, andare a una festa, andare a una cena, al massimo avrà il naso che gli collerà. Questo è un turbinato ipertrofico, quello di destra. Ecco, vedete quanto spazio è stato fatto e se andate avanti, quindi nel postoperatorio il paziente respirava benissimo. Subito questo, immediatamente? Subito, immediatamente. 20 minuti, niente tamponi, nessun dolore postoperatorio. E se mettete il video c'è un'intervista, un contributo di una paziente che secondo me è bello ascoltare. Stavo veramente male, ma malissimo, a livello di respirazione del naso totalmente chiuso, cioè impossibile respirare, come un raffreddore di quelli pesantissimi, costanti. Allora ho deciso di ridurre il volume di turbinato inferiore, perché la respirazione nasale era il suo scruccio. Intanto l'operazione per me la rifarei adesso se dovesse rifarla, perché è stata per me una passeggiata, perché confronto un'altra volta che anestesia totale che a me fa molto male, più dopo i tamponi, più tutta viola. Con lei non mi sono accorta, a me dolore zero, tornata a casa perfetta, senza i tamponi, senza cosa, e già, anzi subito ho già cominciato parecchio bene. E adesso come respira, come sta respirando? Cioè mi sembra un sogno, mi sembra un sogno. Se ci volesse io non avrei nessun, adesso mi dici il Santiano, vengo, veramente. Bene, grazie che stai testimoniando. Bene, grazie a lei, guarda, dottoressa.